Parte il festival 45esima edizione di Varano, un paesino che è una frazione di Ancona, un piccolo corpuscolo piccolo ma con grandi valori, con grandi idee e soprattutto per la valorizzazione del dialetto. Comunque, certo, è una cosa molto impegnativa alla quale ci crediamo veramente, solo che si stanno rendendo le cose molto difficili. Questo si sa, non è perché si vuole svigolare e non far rispettare la legge, questo è lontano da noi. Però purtroppo ci sono delle imposizioni che sono troppo pesanti per le nostre spalle, come le mie e come qualche altra festa qui intorno. Però parliamo dei contenuti, la gente si è divertita. La gente, la gente è con me, lo so, però purtroppo questo non cambia che c'è delle cose. Delle problematiche di fondo. Ma sicuramente, gente che lavora qui dentro 12-13 ore tutti i giorni, lo fa perché gli piace.